Ingegner Brand, Hans Brand qui presenta la conferenza servizi a rete tour con delle soluzioni sulla ricerca a perdite e sul risanamento delle reti. Quali sono i prodotti che state proponendo? Abbiamo presentato un nuovo geofono, un modello di punta della Severin che noi rappresentiamo qua in Italia. Tecnologie chiaramente all'avanguardia, tutto senza fili, filtraggi, memorizzazioni, chi più ne ha più ne metta. Sicuramente per i palati raffinati è il fiore e l'occhiello della tecnologia, un grande strumento e la risonanza che si è avuta finora è ottima. I primi sono già stati forniti e puntiamo molto su questo nuovo prodotto. La ricerca a perdite è proprio uno degli argomenti chiave anche della conferenza di quest'oggi. Infatti diciamo che tutta la gamba dei nostri prodotti va dal monitoraggio, dalla raccolta dati, delle reti. Chiaramente il geofono fa parte di questo ma siamo specializzati proprio in questo settore da tanti anni. La sensibilità è in aumento su questo fronte? Sì, diciamo che dopo anni di stasi finalmente si vede un mercato che si muove nuovamente e ci dà qualche speranza per il futuro. Molto bene. E dal punto di vista invece del risanamento delle videoispezioni, l'altro settore di cui vi occupate, come sta andando? Ma anche quest'anno devo dire è partito alla grande e sembra che ci sia di nuovo un movimento anche qua in Italia finalmente. Finalmente. Siamo partiti, noi forniamo attrezzature ma sia la fine dell'anno scorso sia questo primo inizio dell'anno ci ha dato molte soddisfazioni. Anche i segnali che vengono dal mercato sono molto interessanti. Incoraggianti e positivi. Molto incoraggianti, sì sicuramente. Bene, io la ringrazio e le auguro buona conferenza. Grazie mille e grazie per l'intervista.